You know, tonight I'm feeling a little, out of control. Is this me? You wanna get crazy? Cause I don't give a... Amiche, ma soprattutto amici di Mistopolini, io sono Mister Rocco, vi presento subito questa coloratissima aspirante al titolo di Mistopolini, la numero... 57 Ci ha pensato un po' ma l'ha detto, nome e cognome? Giulia Giberna Oh Giulia, che bel nome, Giulia, Giulia, sono proprio curioso di conoscerti bene, sapere che tipo sei, raccontami la tua giornata tipo, ecco, quando ti alzi la mattina, cosa fai, se fai colazione col mulino bianco, oppure vai al mare? Magari al mare, no, la mattina lavoro per uno studio tecnico e il pomeriggio generalmente studio Cosa? Adesso sto studiando inglese, però a settembre mi iscriverò ad architettura Ho capito, cosa stai studiando in questo momento? Stai facendo università o ancora? Sto facendo un corso intensivo di inglese Ah, un corso intensivo, come mai? Hai previsione di andare all'estero o da qualche parte? Sì, sono state, vorrei farmi un viaggio per le capitali europee e che l'inglese mi serve E beh, naturalmente ti servirà anche proprio per la vita Senti, ma tra le tanti capitali europee, dovendo sceglierne una in particolare, quale sceglieresti? Per visitare o per andareci? Per vivere Per vivere? Penso a Barcellona Come mai? Vita, divertimento, mare, sole, uomini? Sì, sempre, tutto quanto Va bene, che signore sei? Pesci Pesci, sei una ragazza molto dinamica, mi sei molto dinamica Domandina, anzi domandona Sei fidanzata? Sì Oh, amici, è crollato il grattacetto Vabbè, da quanto tempo possiamo dirlo? Da due anni E poi quindi ormai è sistemata, ormai è sistemata e innamorata Bene, in bocca al lupo, quella è la telecamera di Mistopolini Per te la possibilità di salutare e dire tutto ciò che vuoi Bene, saluto tutta la mia famiglia e i miei amici In bocca al lupo Grazie Arrivederci Grazie Let's go 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 Grazie.